e io ho un parente assassino che si chiamava ramon mercader mia madre si chiama maria mercader è catalana e spagnola questo ramon mercader stalin gli disse vai a città del messico ammazza trotsky questo è partito con piccone gli ha dato ammazzato pure quello giusto l'assassino di trotsky era tuo zio e che è la regola nera